Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. È lunedì ed è tempo di dare un'occhiata ai risultati del weekend calcistico. Appena concluso, come sempre partiamo dal campionato di promozione, era la dodicesima giornata del girone di andata. Biassono-Arcellasco-Città di Erba 1-1, Casati-Calcio-Arcore-Concorezzese 1-0, Costa-Masnaga-Calolzio-Corte 4-3, Galbiate-Missaglia-Maresso 3-0, Lissone-Colicoderviese 1-1, Nuova Sondrio-Speranza-Grate 1-1, Olgiate-Aurora-Grent Arcadia 1-1, Viberonchese-Cavenago 0-2. In classifica a 26 punti ci sono due squadre Arcellasco-Città di Erba e Casati-Calcio-Arcore, 25 per Nuova Sondrio, 22 Biassono, 21 Cavenago, 19 Calolzio-Corte e Viberonchese. A 18 punti Colico-Derviese, 16 Speranza-Grate, 15 Galbiate, 14 Costa-Masnaga, 12 Grant Arcadia, 11 Concorezzese, 10 Lissone, 8 Olgiate-Aurora e chiude con 2 punti Missaglia-Maresso. Passiamo al campionato di prima categoria, i risultati della dodicesima di andata. Albosaggia-Ponchiera-Sovico-Calcio 4-1, Ars-Rovagnate-Polisportiva 2-B 0-2, Berbenno-Valmadrera 3-2, Cortenova-Prolissone 1-1, Giovanile-Canzese-Monvico 0-2, Grosio-Lesmo 0-4, Vercurago-Olympic-Morbegno 1-1 e Bellagina-Triugese 4-1. In classifica 29 punti per Lesmo 26, Polisportiva 2-B 22 punti per Albosaggia-Ponchiera e Prolissone, 21 Monvico 19 per Valmadrera-Bellagina e Giovanile-Canzese. A 15 punti ci sono Triugese e Ars-Rovagnate, 14 Vercurago, 13 punti Cortenova e Berbenno, 11 Olympic-Morbegno, 10 punti Grosio e a 0 punti Sovico-Calcio. Infine la seconda categoria, anche qui dodicesima di andata, Atletico-Cosio-Valchiavenna 1-1, Delebio-Ciavennese 0-2, Dubino-Cosio-Valtellino 1-0, Penta-Piateda-Polisportiva-Villa 0-0, Piantedo-Bormiese 3-3, Prata-Calcio-Talamonese 3-6, Tiranese-Ardenno-Buglio 0-0. In classifica 29 punti per Chiavennese, 22 Ardenno-Buglio e Dubino, 21 per Tiranese e Bormiese, 19 Talamonese, 16 Cosio-Valtellino, 14 Piantedo, 12 Delebio, 10 Penta-Piateda, 9 punti per Polisportiva-Villa, 7 Valchiavenna, 6 Atletico-Cosio e chiude con un punto Prata-Calcio. È tutto, come sempre potete trovare risultati e classifiche nell'area sport sul sito radio.tsn.tv